Obiettivo numero 1, sorpasso. Il bitonto di Nicola Ragno riprende la rincorsa ad handicap, almeno per ora, ai quartieri nobili del girone H di Serie D. Dopo la pirotecnica vittoria in quel di Altamura, che ha fatto il paio col successo nitido sul Molfette, domani si appresta ad affrontare il lavello di Karel Zeman, figlio del celebre boemo fumante. Un punto da recuperare, sei contro sette, alla macchina da gol Lucana, già 11 finora. In panca non andrà il mister Molfettese, assurdo, sono stato espulso già due volte in quattro giornate, mai accaduto nella mia carriera. Aveva avuto modo di stupirsi commentando al termine della gara in terra federiciana, ma il suo vice è Gigi Naclerio, un talismano quando veste i panni di primo condottiero delle oncelli. Abbiamo bisogno di fare un altro risultato utile perché non vogliamo allontanarci dalle prime, la squadra sta crescendo anche fisicamente e dobbiamo sfruttare questo momento delle due vittorie precedenti. La preoccupazione è quella perché troviamo una squadra forte, noi prendiamo gol perché al momento stiamo pagando forse il fatto di partire in ritardo di certe situazioni che si creano in ritiro, noi le stiamo facendo adesso, quindi è normale subire qualche gol in più perché a difesa, centrocampo, attacco, c'è la conoscenza in questo momento, la conoscenza che veniva in ritiro la stiamo facendo adesso, quindi qualche difficoltà è dovuta a quello. Sono comunque fiducioso nei ragazzi perché possono veramente fermare questo attacco che loro hanno molto forte. Insomma, non sarà facile avere la meglio sugli ospiti, forse ci vorrà dalla sua zolla prediletta tutta l'arte del mago delle punizioni, Alex Sirri. Da fermo, questo centrale difensivo piratesco ed euclideo, che è stato tra i primi ad abbracciare l'utopia del patron Francesco Rossiello, ha realizzato reti pesanti allo Iacovone e al D'Angelo. Ci sarà sicuramente da combattere, da battagliare, sicuramente non ci tireremo indietro, anzi cercheremo di fare di tutto per portarci a casa tre punti. Siamo un bel gruppo, credo che magari ci conosciamo ancora meno rispetto magari ad altre compagini, però credo che stiamo crescendo di giorno in giorno sempre meglio.